benvenuti all'appuntamento con arte del risveglio il programma che si occupa delle cose strane dell'arte dei misteri dei segreti degli enigmi non le solite cose cose nuove cose coraggiose che fanno anche sorridere e divertire perché l'arte ha anche un aspetto ludico divertente ironico gogliardico che non viene sottolineato abbastanza diventa spesso noiosa parla di cose auliche con parolone grandi dotti e non riusciamo a cogliere e a vedere con la semplicità degli occhi di un bambino perché l'arte va vista anche in quella maniera lì non solo con la mente va vista anche col cuore con gli occhi con l'ingenuità e possiamo andare a scorgere e a scoprire cose anche divertenti e per esempio andiamo a vedere una una delle opere più famose del mondo ancora una volta il cenacolo di leonardo da vinci e ci interroghiamo su quella strana enorme apertura quella porta quella porta che è stata aperta quando il cenacolo era stato appena finito era ancora fresco allora cerchiamo di essere aperti di mente questa non è una lezione di storia dell'arte questa è una storia che suppone delle cose e vuol far riflettere uscendo dai soliti schemi perché i soliti schemi cosa ci propongono ci dicono che quella porta è stata aperta quando ormai il dipinto non la fresco ma la pittura murale la tempera grassa e olio la tempera grassa e olio su questa parete è stata aperta quando ormai non si vedeva più niente era irrimediabilmente cancellato non si vedevano i personaggi era una macchia ormai e allora rovinato per rovinato i frati decisero di far aprire questa immensa porta sproporzionata enorme chi è stato in visita al cenacolo io ci sono stato per fortuna mi sono reso conto dell'enormità di questa porta la sproporzione sembra quasi un gesto anzi io ne sono convinto un gesto vandalico sembra uno spregio a questo dipinto che va a togliere proprio la parte centrale la parte il fulcro del dipinto quello che sotto al tavolo quella zona che potrebbe nascondere dei gesti del linguaggio non verbale cioè il linguaggio del corpo perché in tutto il dipinto ci sono delle cose che andremo a vedere che fanno riflettere non poco proprio in quelle zone ma manca quella proprio quella e i frati domenicani i frati del cenacolo i frati del convento erano e sono frati domenicani cioè severi frati inquisitori e si chiamavano erano soprannominati segugi di dio perché fiutavano le eresie gli eretici ma i segugi di dio domines canis cioè cani di dio hanno fatto siccome non potendo cancellarlo ufficialmente non potendo toglierlo perché l'aveva pagato il duca di milano il potente ludovico il moro hanno fatto in maniera di rovinarlo irrimediabilmente scusate questa è la mia ipotesi la mia storia e andiamo a vedere perché intanto la stranezza ho trovato fortunatamente dei documenti che dichiarano che il dipinto di eminenti storici più autorevoli il più autorevole che dice afferma che quell'apertura sia stata aperta nel 1499 non 200 anni dopo come molti testi affermano ma proprio l'anno giorno più giorno meno mese più mese meno della stesura finale dell'ultimo tocco di pennello di leonardo cioè quando la pittura a olio e tempera grassa era ancora umida probabilmente quindi immaginate di dover demolire un muro una parete per far spazio ai carrelli della mensa della cucina del refettorio che dovevano passare perché sennò si sarebbero raffreddate le pietanze ma il refettorio c'era anche prima la cucina c'era anche prima del cenacolo cioè del dipinto di leonardo c'è qualcosa che forse ci sfuggi abbiamo gli occhi come diceva leonardo la prossima storia rivelerà delle cose incredibili a presto